Già Alessandro mi modificherà la faccia facendo un disegno a suo piacimento Ma posso sapere almeno qual è il disegno? No Come? Dai dammi un indizio almeno per favore Perché qual è il problema raga? Abbiamo fatto la scommessa e chi perdeva doveva farsi fare un disegno sulla faccia, ok? Era la scommessa e sfortunatamente ho perso io E questo essere vivente scrauso qua non mi vuole neanche dire cosa mi vuole disegnare in faccia Ti posso dare un indizio? Dai per favore dammelo Inizia con la C e finisce con la O Cosa? Raga voi conoscete una parola che inizia con la C e finisce con la O? Io la conosco Ma quello non è come pensi Per favore, per favore Colore alla mano What the? Alessandro è il tuo momento Io intanto ragazzi mi siederò nella mia poltrona magica E attendo il processo Ho già paurissima La mia povera guancia, oddio Cosa sta facendo questo essere scrausissimo raga ho paura Sì ma dove vuoi arrivare, dove vuoi arrivare fino alla pancia Cos'è? Cos'è? Mi ha detto ma perché ho deciso di fare queste cose? Anche dove di avere capito che cos'è? Cos'è? Un coniglio? Esatto È un coniglio Ma allora sei buono Cavolo pensavo una cosa brutta Calcolate raga che io l'altra volta gli avevo fatto una cacca qua Coloriamolo Vediamo Alessandro come ricolora i conigli Ok la carota l'hai fatta bene Il coniglio Piano vai piano che la pelle è mia qua eh Finito Oh wow che bel coniglio strabico bruttissimo che mi disegna Ma che è sta roba qua? È il mio della tua cacca gigante Una lezione che posso darvi ragazzi Non perdete mai le scommesse È il mio della tua cacca gigante